Certo che è grave, non si risolve nessun problema sparando, ci sono delle indagini in corso e prima di dare una sentenza voglio capire alla fine delle indagini i nomi delle bestie che hanno compito questo gesto. L'immigrazione fuori controllo, numericamente fuori controllo gli ammassi, le tendopoli, le baraccopoli, i ghetti portano inevitabilmente allo scontro sociale quindi con calma, non abbiamo la bacchetta magica, però piano piano cercheremo di portare legalità in Calabria come in tutta Italia.